Bene, e questo momento, è un momento veramente conclusivo di questa serata, lo dedichiamo ad una persona che ha condotto degli studi magistrali e che sicuramente rappresenta un'eccellenza qui a Nardò, che rappresenta appunto la Puglia come talento, come arte, ve la chiamo, si chiama Francesca Cellamare. Francesca Cellamare nasce come disegnatrice di gioielli e accessori di moda, oggi è stilista, consulente d'immagine e tra un attimo rappresenterà qui in un instant fashion quelle che sono le sue creazioni, con l'uso semplicemente di pochi spilli. Francesca Cellamare 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 Linux congress Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.